benvenuti sul canale di music way to ora parliamo di nuovo del grande fratello e nello specifico di christian imparato e daniele daniele era sul letto che parlava con valentina vignani e pare che abbia chiamato christian imparato checca e questo molti utenti l'hanno preso come un'offesa omofoba verso christian imparato ma vediamo insieme perché lo ha chiamato checca daniele si stava riferendo alla litigata avuto martedì notte proprio con christian pare che quest'ultimo lo abbia nominato perché lui quel martedì ha mangiato due uova e quindi daniele si lamenta con valentina perché non può nemmeno mangiare due uova che cristiano nomina quindi questa motivazione secondo lui non è quella reale e crede che christian sia organizzando un suo piano ovviamente del gioco molti utenti però su twitter pensano che in realtà daniele non stesse dando della checca a christian ma con la parola checca si riferisse a francesca di andrè checca in diminutivo di francesca pensano questo perché il video non è molto chiaro in cui si sente daniele a parlare e per questo ci sono delle opinioni discordanti tra di loro voi cosa ne pensate fatemelo sapere giù nei commenti come al solito lasciatemi un like di supporto se il video vi è piaciuto noi ci vediamo con le prossime news